lunedì 25 marzo buongiorno e buon inizio di settimana ben ritrovati puntuali come sempre per la nostra rassegna stampa il nostro consueto appuntamento del mattino andiamo a fare il giro delle prime pagine per scoprire cosa ci propongono i quotidiani edicola stamani edicola questo lunedì cominciamo subito il nostro giro lo facciamo partendo dal giornale di sicilia la furia russa sull'ucraina questo il titolo di apertura l'isis mostra i video dei terroristi della sala concerti ma putin l'ignora bombe su chiev e leopoli un missile passa sui cieli della polonia torna a crescere la tensione con la nato allerta invece in italia mantovano preoccupano lupi solitari e propaganda tragedia a napoli incidente al porto muore un marittimo trapanese e poi i numeri della sanità in crisi mancano 1500 medici l'allarme in un report dell'assessorato la fuga verso le strutture private cameriere nero vittima di razzismo il fatto è avvenuto in un agriturismo a misili scemi e poi come ogni lunedì ampio spazio in prima pagina sul giornale di sicilia allo sport in primo piano la formula 1 doppietta ferrari a melbourne impresa in australia primo sainz secondo leclerc seconda amichevole invece per la nazionale azzurra di calcio azzurri in affanno ma comunque piegano l'ecuador a segno pellegrini e balella mentre per quanto riguarda il palermo in serie b rosa nero difesa più tutelata si cambia il modulo corini dunque cerca insomma di sistemare la situazione in vista della finale di stagione per un palermo che fin qui ha incassato davvero troppi gol l'ultimo scritto di silvio berlusconi libertà e pace consegnato a marina e poi un migliaio di arrivi in 24 ore ragazzo disperso si parla chiaramente di emergenza migranti e nuovi sbarchi a lampedusa basta scavi a casaccio il comune impone la nuova linea alle ditte aperto il ponte belei dopo il rattoppo la campagna vedete del giornale di sicilia sulle strade dissestate lasciamo il giornale di sicilia restiamo nell'isola lo facciamo con la prima pagina della gazzetta del sud si parla di sanità ospedali siciliani senza medici quindi problemi legati in questo caso alla sanità in sicilia la mappa delle carenze d'organico in tutte le province è allarmante scrive la gazzetta del sud ancora scoperti molti ruoli chiave la regione si rivolge a sanitari stranieri in 37 arrivano dall'argentina rispuntano gli abusivi alla real cittadella nel cuore della falce di messina auto invece si ribalta sulla a20 giovane in codice rosso l'incidente avvenuto per la precisione tra rometta e milazzo nato mosca preoccupa l'escalation della tensione un missile da crociera russo ha violato lo spazio aereo polacco e altri raid sull'ucraina con 14 bombardieri mentre putin per l'attentato continua a ignorare l'isis e a voler coinvolgere chieva dunque adesso il rischio di una possibile escalation alla luce anche degli ultimi avvenimenti come vedete è davvero molto molto concreto lasciamo anche la gazzetta del sud questa è la prima pagina della corriere della sera che apre proprio con questo preciso e importante argomento l'ira di putin bombe su kiev nel giorno del lutto nazionale il cremlino fa salire la tensione missile russo viola lo spazio aereo della polonia lo zar ignora le rivendicazioni dell'isis che mostra nuovi video della strage a mosca putin dunque che continua a sospettare ad accusare l'ucraina anche di questo vile attentato e poi lo sport in taglio centrale 1 2 e festa ferrari doppietta in australia science che lo ricordiamo lascerà il cavallino arriverà emilton alla ferrari trionfa davanti a leclerc a melbourne dunque una serata una giornata in questo caso magica per il per il popolo ferrari dopo davvero tanti tanti anni il quotidiano la repubblica anche qui in primo piano la possibile vedete scenario tra russia ucraina e non soltanto gli scenari della crisi scrive infatti repubblica bombe alle porte dell'europa putin colpisce leopoli nell'ucraina occidentale un missile russo viola lo spazio aereo polacco la nato adesso teme un attacco mentre kiev bersaglia la crimea l'ex kgb tortura i terroristi della crocus city hall per costringerli a confessare ed è scontro tra isis e cremlino sulla paternità di questo attentato avvenuto in questa sala concerti parla invece javlinsky leader del partito liberale russo la strage dice può essere una nuova sarajevo proseguiamo con la nostra rassegna stampa questa è la prima pagina della quotidiano il messaggero putin il giorno del dolore tensione con la polonia l'isis pubblica il video dell'assalto missile sul cielo nato altre notizie in primo piano caso emiliano si muove l'antimafia decaro dice mai a casa della sorella del boss dopo la gaffa sull'incontro a bari vecchia e poi le donne del pd penalizzate nelle liste europee mossa di fratelli d'italia per noi niente quote rosa picerno un problema se si presenta elli schlein statali caccia ai super esperti arriva il via libera ai concorsi nella pubblica amministrazione per manager con stipendi fino a 100.000 euro giustizia e pnr premi da 4.500 euro per chi riuscirà a smaltire l'arretrato nei processi guardate questa notizia da roma studente sospeso blitz del padrigno che vedete picchia il preside l'aggressione al docente nel liceo del ragazzo che aveva insultato un professore e poi la festa tutta rossa sainz leclerc alba rossa melbourne dominio ferrari in australia vince lo spagnolo charles leclerc ovviamente chiude invece in seconda posizione andiamo avanti con la nostra rassegna ci spostiamo sulla prima pagina del quotidiano del giornale tra le altre cose le condizioni di salute di papa francesco la verità sulla salute della pontefice ieri niente omelia nella festa delle palme ansia per i suoi silenzi un mese di affanni e l'ipotesi ricovero ma il pontefice non si ferma e va avanti parla l'esperto a proposito di papa francesco vedete lo definisce un soggetto fragile e troppo esposto alle infezioni papa francesco però per il momento decide di non fermarsi caso bari de caro spunta una foto con la sorella del boss bufera dopo le frasi di emiliano il sindaco smentisce ma un'immagine lo inguaia il video invece che mostra le barbarie dell'isis si parla chiaramente dell'attentato a mosca mentre in vista delle elezioni europee salvini no a ursula e poi punge forza italia io rimango coerente ha dichiarato il leader della lega dalla giornale alla prima pagina del fatto quotidiano il sistema santa anche visibilia veniva usato pure a key group il super testimone parla proprio ai colleghi del fatto quotidiano degli aiuti covid a un'azienda già in crisi questa la notizia di apertura stamane sul fatto quotidiano andiamo avanti vediamo cosa ci propone invece in prima pagina il quotidiano la stampa si parla di russia con mosca che provoca la nato missile sopra la polonia rarabbia chiaramente di varsavia vogliono testare la velocità di reazione occidentale lo stato islamico intanto diffonde i video del massacro dei suoi terroristi al teatro crocus ma come detto putin continua invece a tirare in mezzo l'ucraina sogno rosso ferrari vedete questa splendida immagine di festa in australia science trionfa davanti alle clerk una doppietta attesa pensate un po 20 anni quindi non può che essere insomma una domenica quella appena trascorsa da ricordare a lungo per il popolo del cavallino la prima pagina del quotidiano la nazione putin moltiplica i raid sull'ucraina l'isis diffonde il video della mattanza di mosca ma per lo czar la la priorità è vincere la guerra contro kiev terrorismo la mappa dei rischi un missile russo sconfina in polonia pericolo escalation il dossier degli 007 vedete parla di un allarme concreto allarme di possibile escalation l'europa investa di più sugli armamenti e poi le mani sul volto vedete di papa francesco il silenzio della pontefice francesco affaticato e dunque niente omelia nella domenica delle palme questo scatto vedete immortala proprio papa francesco nella mattinata di ieri in piazza san pietro durante la messa in occasione della domenica delle palme e dunque questa impossibilità vedete di effettuare di svolgere l'omelia per una pontefice sofferente siamo sulla mattino putin rappresaglia su kiev nel giorno del lutto la russia intensifica gli attacchi la polonia violato il nostro spazio aereo dall'isis altri video della mega della strage a mosca la nuova strategia jihadista allarmà anche l'occidente caso emiliano si muove l'antimafia decano ribadisce mai dalla sorella del boss dopo le parole il tutto questa situazione dopo le parole appunto della governatore emiliano tragedia invece sul lavoro l'ennesima tragedia in italia muore schiacciato nel porto di napoli un marittimo 45 anni investito da un semirimorchio i sindacati chiaramente chiedono più controlli per la sicurezza e poi lo sport è stata sì una domenica da ricordare anche soprattutto per i motori ma c'è stata pure la partita della nazionale andata decisamente bene per gli azzurri rossa e azzurra questa è l'italia che piace da una parte la doppietta ferrari in australia dall'altra invece la nazionale di spalletti che batte 2 a 0 l'equador in amichevole e poi il quotidiano libero la commedia pd mafia lo smemorato di bari vecchia chiaramente il caso bari il caso de caro in primo piano su libero il sindaco scarica il governatore emiliano mai andato con lui a casa del boss tra i dem regna l'omertà bocche cucite il centrodestra invoca l'intervento dell'antimafia la raggi invece sta preparando l'ascissione dei grillini ovviamente la raggi virginia raggi ex sindaco di roma vedete virginia e dibba contro il leader dei 5 stelle conte l'isis rivendica putin si vendica invece su kiev pubblicati altri video della strage mosca però preferisce bombardare l'ucraina questo scrive libero parliamo di sport andiamo a vedere le prime pagine dei tre principali quotidiani sportivi italiani chiaramente ampio spazio alla formula 1 con la gazzetta dello sport ad esempio che dedica quasi interamente la sua prima pagina alla rossa alla magia rossa in questo caso titolo alla gazzetta miracolo sainz e doppietta ferrari verstappen fuori subito carlos da scaricato vedete lo sottolinea la gazzetta perché sainz andrà via dalla ferrari trionfa in australia dopo tra l'altro essere stato operato di recente di appendicite e adesso tratta con la red bull orgoglio leclerc che chiude al secondo posto e vedete anche il selfie tra i due piloti ferrari altri azzurri in questo caso l'italia un'italia da euro pellegrini barella spalletti è soddisfatto dice ci siamo italia che vince 2 a 0 in amiche vuole vince anche sinner soffre rimonta e passa stavolta è stata dura dunque ennesimo successo per il tennista il campione azzurro yannick sinner dalla gazzetta al corriere dello sport che parla invece di un red carpet sainz leclerc sfilata ferrari in australia non accadeva da ben 20 anni il ritiro di verstappen lancia la rossa vince carlos al rientro dopo l'operazione di appendicite la vita è bella ha detto sainz parla anche leclerc lui meglio di me l'ultima doppietta a melbourne nel 2004 e poi la nazionale di calcio lorenzo moment l'italia batte l'equador 2 a 0 gol di pellegrini e barella una magia del capitano della roma ovviamente lorenzo lorenzo pellegrini illumina l'ultimo test degli azzurri negli states spalletti ha riprovato il 3421 e così la difesa è apparsa più solida sta vivendo davvero un grande momento pellegrini dopo il cambio di allenatore alla roma è sbocciato nuovamente il calciatore giallorosso chiudiamo con tutto sport che celebra la ferrari sainz e ferrari dell'altro mondo clamorosa doppietta nel gran premio d'australia carlos da favola la vita è pazzesca poi dichiarato il pilota ferrari ci fermiamo qui chiudiamo questa rassegna stampa odierna dopo aver fatto e concluso il giro delle prime pagine chiaramente l'informazione non si ferma sui nostri canali ci ritroviamo più tardi partiamo con tutte le nostre edizioni di spazio notizia per aggiornarvi lungo questo lunedì e allora anche oggi come sempre vi invitiamo a rimanere con noi a più tardi ciao ciao